Carabinieri, pluri recidivo all'anticovid-19, l'incoscienza di un uomo di ferla, sanzione doppia. Anche nella giornata di ieri in tutta la provincia sono registrati numerosi casi di persone sorprese a circolare senza motivo valido, alcune anche a bordo di autovetture e altre sorprese sedute su panchine in pubblica via. Il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa attraverso i reparti dipendenti continua incessantemente nell'attività di controllo del territorio per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del coronavirus. Sanzioni sono state elevate a Siracusa, Cassibile, Sortino, Carlentini, Villasmundo, Francofonte, Ferla, Melilli, Augusta, Noto, Palazzolo, Rosolini, Portopalo e Avola. A Siracusa sono state sorprese e sanzionate 5 persone che si aggiravano nella nota zona balneare di Fontane Bianche. A Portopalo è stata sanzionata una coppia proveniente da un centro limitrofo che ha dichiarato di trovarsi in quel comune per acquistare dei prodotti caseari. A Ferla è stato sanzionato un cinquantenne perché è trovato fuori dall'abitazione senza alcuna giustificata motivazione. Il soggetto, che per gli stessi motivi era già stato sanzionato altre volte a causa della recidiva, dovrà pagare un importo doppio rispetto alla sanzione ordinaria, ovvero 560 euro. I carabinieri quotidianamente impegnati nel garantire la corretta osservanza delle misure di contenimento rammentano che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. E' che le nuove disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da 400 a 3.000 euro da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva. Ed evidenziano che nei prossimi giorni, con l'approssimarsi delle festività pasquale, l'attività di monitoraggio su strada a tutela della salute dei cittadini si farà sempre più incisiva. Grazie a tutti.